Oggi ci occuperemo di un argomento che interessa giovani, adulti, famiglie. Molto spesso si sente parlare di depressione, anche a volte usato impropriamente questo termine. Ne parliamo con l'ospite che ho oggi in studio, che è la dottoressa Laura Lucia De Faveri. Ben arrivata in studio, dottoressa. Nella presentazione ho voluto proprio accennare così, perché a volte questo termine è usato impropriamente. Uno si sente un po' giù, un po' di malumore e si sente spesso dire sono depresso. In realtà vogliamo spiegare bene alla sottoscritta e anche ai nostri telespettatori che cos'è la depressione, perché è molto di più dell'affermazione sono depresso. Allora, innanzitutto, prima di parlare di depressione, dobbiamo considerare che ci sono uomini e donne che soffrono. Ci sono persone che hanno i loro vissuti, le loro esperienze, il loro background sociale, culturale e manifestano un sintomo. La tristezza è un'emozione naturale. La tristezza come è felicità, sono emozioni che uno prova, quindi... Sì, assolutamente normale, nel caso si perda qualcuno o qualcosa di importante. Quindi la tristezza fa parte della vita. Quello che la differenzia dalla depressione è innanzitutto la durata, l'intensità e il fatto che per manga, nonostante non esistono cause apparenti. Ho capito. Quindi, a distinguere uno stato, diciamo, di tristezza, che spesso viene definita da chi sta male come una depressione, è invece il non sapere la causa? No, allora, a volte la causa è sconosciuta. E non si sa. Non si sa. Altre volte è esclusivamente psicogena, quindi può essere la reazione a un lutto, per esempio, un lutto importante. I grossi dolori che una persona vive, un lutto, una separazione, mi riferisco ai bambini, perché purtroppo sono sempre di più i casi di genitori che si separano e quindi probabilmente i figli adulti, giovani, adolescenti, piccini o meno, soffrono e provano questo dolore. Dolore che è tristezza, è un sentimento che uno prova. Sì, la tristezza che poi però dovrebbe risolversi in modo naturale, dopo un certo decorso, dopo... Più o meno quanto, dottoressa? Allora, oddio, ognuno magari poi ha i suoi tempi per elaborare un lutto, una perdita, una separazione, un dolore. Sì, sicuramente il tempo è soggettivo, dipende da molti fattori. È anche vero che si parla di episodio depressivo, se, e qui entriamo proprio nello specifico, se la persona prova tristezza per la maggior parte della giornata, quindi l'umore è depresso, perde piacere a fare attività che invece prima... Qualsiasi tipo di attività? Soprattutto quelli che prima considerava piacevoli e diventano... Perdenti, non danno nessun piacere più. Nessun piacere, addirittura, anche se la depressione può avere cause esclusivamente psicogene, però comporta degli squilibri neurochimici, quindi neurotrasmettitori come la serotonina, la dopamina, il testosterone calano, calano proprio in modo flessibile. Perché noi sostanzialmente siamo chimica, siamo fatti di chimica, quindi abbiamo appunto questi elementi che vanno, vengono, abbiamo bisogno di un equilibrio, sicuramente, e invece salgono la prolattina e il cortisolo che sono gli ormoni dello stress, per cui può avere anche cause esclusivamente psicogene, quindi causate da fattori ambientali, personali, ma crea appunto degli squilibri fisici e quindi ci sono entrambi i piani in gioco. Certo, certo. E quando poi uno, una persona, deve rivolgersi ad uno specialista, nel quale caso uno psicologo, per riuscire a capire o a superare questi eventi traumatici? Quando? Perché al di là del dolore che uno può provare, prima di rivolgersi ad uno specialista o comunque in ogni caso è bene rivolgersi ad uno specialista? Allora, lei prima mi ha chiesto i tempi e non le ho risposto sui tempi. Allora, si fa la diagnosi di episodio depressivo se questi sintomi che ho elencato e anche altri come l'alterazione del ritmo sono veglia. Ah, ecco. L'aumento, la diminuzione di appetito e quindi l'aumento o il calo di peso, la difficoltà di concentrazione, la difficoltà di memoria, l'autosvalutazione, la perdita di fiducia nella possibilità anche di un futuro oppure nei casi più gravi anche dei suicide, tentativi di suicidio o suicidio conclamato. Quindi questi, dottoressa scusi se la interrompo, sono tutti diciamo dei sintomi, i modi in cui questa malattia, dico sbagliato se la chiamano malattia, la chiamano malattia, sono i sintomi in cui si manifesta, giusto? Sì, quindi uno deve valutare e vedere se ha i sintomi che lei ha appena elencato. Questi sintomi che possono anche essere associati con l'ansia e anche l'aggressività perché poi parleremo anche di cosa ci sta sotto, quindi... Certo, certo. E questi sintomi qui se sono, se si risolvono in un tempo... Entro due settimane, ecco. E questo eravamo ai tempi. Ecco. Se entro due settimane questi sintomi che vanno appunto, come ha ripetuto lei, dall'insonnia, inappetenza, eccetera, si risolvono, beh, bene. Bene. Se invece persistono, bisogna preoccuparsi. Allora, in quel caso è il caso di prendere in considerazione cosa ci sta sotto e anche le motivazioni per cui ci si sente in quel modo. Poi dai sei mesi in poi si parla proprio di episodio depressivo maggiore, quindi si fa diagnosi di disturbo, scusi, non episodio, ma disturbo depressivo maggiore. Che differenza c'è? E' appunto la durata, la durata principale. Ma c'è anche una differenza poi nella cura, nella terapia? Beh, allora, ogni caso è a sé. Se il problema persiste per più tempo, è più facile che la persona abbia adottato comportamenti, pensieri e si sia anche fossilizzata in quell'emozione di tristezza, paura, ansia. Quindi probabilmente la cura sarà anche più difficile da portare avanti. Dottoressa, questi sono, diciamo, i modi in cui si manifesta all'inizio la depressione. Sì. Volendo parlare di cause, cioè è impossibile o forse ci sono già degli studi che riescono a dare una spiegazione, diciamo, allo sviluppo della depressione, di queste cose? Allora, sicuramente sembra che la depressione sia causata da un insieme di fattori, personali, fisiologici, ambientali, culturali. Per quanto riguarda le emozioni, oltre a un senso di vuoto, a un non senso, quindi che questo giustifica la tristezza e quindi ha una disconnessione, se vogliamo, con la propria parte autentica, il proprio vero. La parte razionale, la realtà, non lo so. Cioè, c'è proprio una separazione? Cioè, nel pensiero di questa persona che soffre in questa maniera, è staccata dalla realtà? Dal qui ed ora, sicuramente è staccata dal qui ed ora. Dal qui ed ora. Dalla realtà, no. No, ok. Se la depressione è in comorbidità con altri sintomi e con altre patologie, sì, altrimenti mantiene un rapporto. Stiamo, torniamo appunto, stiamo dicendo alle cause di… Sì, allora, spesso la depressione nasconde una grandissima rabbia, una rabbia nei confronti di se stessi, quindi ha una forza. La depressione in realtà ha una forza che è autodistruttiva. E soprattutto gli uomini, ma anche le donne, che nella nostra società vengono educati a non sentire le emozioni. Gli uomini. Gli uomini, sì. Purtroppo ancora ha un retaggio, diciamo, di alcune tradizioni culturali. Scora vive in alcune parti, diciamo, dell'Italia, dove l'uomo deve essere per forza forte. Invece, da qualche parte, avevo letto, che un uomo che piange è un uomo che sa dimostrare i propri sentimenti, non un debole. Certo, sicuramente. Quindi questo va detto e sottolineato, infatti. Quindi la manifestano con comportamenti verbali o fisici aggressivi. Quindi sembrava che un uomo sia arrabbiato, perché comunque la famiglia nell'infanzia l'ha detto, come diceva lei, sii forte, i veri uomini non piangono. Esatto. È una cosa che si sente dire spesso anche ai bambini piccolini, quando credono sei un ometto, non piangere, poverino. Sì, infatti, poverino. È un retaggio culturale che c'è, purtroppo. E quindi l'uomo non si rende conto, e spesso anche la donna, di vivere questa profonda tristezza, la copre con la rabbia. Quindi sembra un uomo molto arrabbiato e in realtà è un uomo molto depresso. Ho capito, ho capito. Ci sono, diciamo, più uomini o più donne? Allora, i dati dicono che nel mondo ci sono 350 milioni di persone che soffrono di depressione. 350 milioni? Sì. È un numero, mi pare, abbastanza alto. Altissimo. Sì, anche secondo me. E addirittura tra quattro anni l'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che sarà la seconda causa invalidante dopo le malattie cardiovascolari. Davvero. E quindi c'è stato, diciamo, un escalation di persone che soffrono di depressione? Nonostante gli psicofarmaci. Infatti, quando lei prima mi ha chiesto la cura, mi collego per rispondere a questa domanda. Allora, in certi casi io ritengo che gli psicofarmaci sono fondamentali. Sono fondamentali perché nel caso la patologia, diciamo, diventa invalidante, la persona non riesce neanche a fare un trattamento, una psicoterapia. Certo. Ok. Tuttavia il farmaco, a mio avviso, cura il sintomo ma non la radice, cioè il motivo che l'ha causato. E quindi è bene fare anche un percorso di psicoterapia. È fondamentale. È fondamentale. È fondamentale perché se vogliamo parlare in termini jungiani, Jung probabilmente direbbe che la depressione ci mostra la nostra parte ombra, la nostra parte oscura, quella che di noi non conosciamo. E perché, dottoressa, in alcuni emerge questa parte ombra ed in altri no? Cioè, ci sono persone, non lo so, ma no, usare il termine più forte no perché ricadiamo nell'errore di prima. Cioè, la parte ombra ce l'avremmo tutti, immagino, suppongo. Esatto. E perché in alcuni emerge ed in altri no? Guardi, io personalmente ritengo che emerge in tutte le persone, non in tutte le persone si manifesta attraverso un sintomo. Capito. Può manifestarsi attraverso comportamenti socialmente inaccettabili, piuttosto che… Ecco, ecco, esatto. Quindi tutti quanti abbiamo questa parte ombra che viene fuori. Sì, e quindi per… si riesce a superare la depressione? Si riesce a superare la depressione sicuramente. Cioè, sembra che le donne soffrono più di depressione rispetto agli uomini. Uomini o donne. Sì, è anche vero che le donne sono più propense a parlare dei propri problemi, delle proprie emozioni e a chiedere aiuto. Quindi è naturale che i dati ci dicono che le donne hanno chiesto più aiuto. Però ci sono anche molti uomini che, appunto, come dicevamo prima, soffrono di depressione. Certo. Si riesce a superare la depressione. Sì, assolutamente. Voglio dire, uno rimane malato, brutto insomma, soffre di depressione per tutta la vita o potrà occupare un arco, magari anche piuttosto lungo, però alla fine riesce a ritornare a fare una vita normale, magari senza più l'uso di farmaci. Anche l'uso di farmaci è temporaneo o uno dovrà comunque convivere sempre con l'utilizzo di farmaci e una terapia psicologica? Allora, ogni caso, ripeto, è a sé purtroppo. E quindi dare una risposta che... Che copra tutto, è impossibile. Per me è impossibile, sì. Personalmente ritengo che sia proprio possibile superarla. Anzi, addirittura può essere considerata un buon motivo per comprendere la strada in cui eravamo e la strada dove veramente vogliamo andare. Perché spesso il sintomo, come qualsiasi altro sintomo, si porta un messaggio. Si dice, guarda che probabilmente stai andando in una strada... Un campanello d'allarme, una sorta di campanello d'allarme. Sì. Stai andando in una strada un po' diversa rispetto a quella che il tuo cuore desidera. stai perdendo la parte più autentica di te. E quindi torna in te, no? Torna a... Appunto... Smettila di soddisfare le aspettative esterne. Purtroppo, ma purtroppo, ecco, infatti volevo chiederle, sarà amica anche perché in questa società dobbiamo sempre comunque piacere al datore di lavoro, piacere ai genitori, piacere agli insegnanti, piacere al fidanzato, piacere al compagno, al marito, ai figli? E uno si sente veramente caricato di... C'è stato insegnato così. C'è stato insegnato che per essere felici dobbiamo rispondere alle aspettative degli altri e piacere agli altri. Ecco. Dobbiamo diseducarci da questo punto di vista e rieducarci imparando ad ascoltarci e quindi per esempio uno dei motivi, dei modi per uscire dalla depressione è quello di imparare a stare bene da soli, per esempio. Bellissimo, è vero. E tante, tantissime persone, dottoressa, non sanno stare da sole, è vero? È vero? Sì, hanno paura, hanno paura e si attaccano ai legami affettivi, alle cose immateriali che possono comunque illudere di dare un piacere che però è temporaneo. Come fa una persona per riuscire a star bene con se stesso? Perché questo poi è diciamo un nocciolo della questione. Come fa una persona a stare bene con se stessa? Ma... Diamo qualche indicazione ai nostri telespettatori per riuscire a star bene da soli? Beh, innanzitutto la solitudine non è l'isolamento come a volte si può pensare, sono due cose ben diverse. Stare da soli non significa stare in compagnia dei propri pensieri, soprattutto se sono negativi. Significa fare cose che ci piacciono, che ci appassionano, che ci coinvolgono. Un'alimentazione sana sicuramente aiuta a prevenire molti disturbi anche mentali. Magari potremmo anche approfondire sull'alimentazione, perché insomma si sente parlare molto spesso di alimentazioni che vietano questo, vietano l'altro. Dopo io dico sempre, uno sta male per forza se non mangi. Era una mia teoria dottoressa, vedo che lei la valora e sono molto felice. Sì, un'alimentazione sana, ricca un po' di tutto diciamo. Sì, soprattutto degli omega 3 come ben sappiamo, l'assilofolico, vitamina B, vitamina C, il magnesio e comunque lo sport, lo sport è fondamentale. Insomma allora dottoressa ritorniamo a quello che dicevano gli antichi romani, mens sana in corpore sano, quindi diciamo delle buone abitudini alimentari come lei stava dicendo aiutano insomma a vivere in modo migliore. Certo, sicuramente. Dottoressa, volendo dare dei consigli, siamo quasi in chiusura, volendo dare dei consigli come oltre all'alimentazione sana uno deve affrontare anche le piccole difficoltà, i sensi, parlavamo prima fra le cause c'è anche un senso di colpa che qualcuno prova eccetera. Ecco come possiamo dare dei consigli e poi quando deve rivolgersi liberamente ad uno specialista senza aver timore perché tante volte c'è la paura di rivolgersi allo psicologo e allo psichiatra. Sì, la paura di essere considerati fragili, la paura di non essere abbastanza perfetti perché questo è quello che ci dicono, in realtà spesso anche le famiglie in buona fede ci fanno la richiesta di essere perfetti, di fare tutto perfettamente e questa è una missione impossibile nel senso che non è umano essere perfetti. Ricordiamolo, è importantissimo, lei sta dicendo delle cose bellissime che mi riempiono veramente il cuore perché vorrei che il messaggio che lei ha portato oggi veramente arrivasse a tanti, a tanti. Quindi innanzitutto è fondamentale riconoscerla, la depressione, per non sottovalutarla e allo stesso tempo anche per non parlare di depressione anche quando non c'è. Esatto. In ogni caso, dal mio punto di vista, è fondamentale fare un percorso di conoscenza di sé. Bene, bene. Dottoressa, io la ringrazio tantissimo per la disponibilità, per essere stata qua in studio con noi e per aver detto delle cose che spero facciano meditare molte persone. Ringrazio la dottoressa Laura Lucia De Faveri. Grazie a lei, grazie a lei.